Sarebbe, mamma, tutti chiedono a San Giorgio sono tutti in galera, invece io sogno un cane, sempre andavo a San Giorgio, sembrivo un sogno e non ne faccio le altre scelte, lascio un cane, muore un cane, poi lanciavo qualche assata, poi se vi chiese le conseguenze dopo, giusto, è normale questo, non fai più meglio il tuo cavolo, io non sogno capronodo, è né responsabile di nessuno, possono fare quello che fai, però fanno stare attenti, Sarebbe un problema, sì, però, qui siamo, io, mio frate, nevo, ok, no, io non voglio, cari Carucci, io una autrice, carucci non è venuto, mamma tutto questo è successo, possiamo uscire, magari solo? Ma io, che non grido però un ferro guerriero a me non mi insegnano i vecchi raccordini, un ferro soldato, un ferro guerriero, un ferro combattente a Mandela, sembra la soluzione qua, sembra la sua trincia a Mandela, o restano soli, sono 200, sono 50, sono uno, magari sono due a cinza è sempre chi